E' stata un'esperienza unica, sia la parte fisica che la parte psicologica, siamo un bel gruppo e lo rifarei sicuramente. Ti mette alla prova, ti fa capire come sei messo e dove dovresti arrivare. Sono riuscito a trasmettere veramente tanto, anche se comunque il tempo si sono 24 giorni, ma ci hanno trasmesso come dieci anni di insegnamento proprio, è stato unico e tante tante informazioni, veramente un'altra. Grazie. 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 Grazie.